Il Senato ha approvato la legge per recepire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla mancata perequazione dei trattamenti pensionistici nel bienio 2012-2013. Tuttavia, quello che sarà riconosciuto il prossimo 1 agosto ai pensionati aventi diritto non corrisponde a quanto effettivamente avrebbero dovuto percepire se non fosse stato previsto il blocco del 2011. In altri termini, quello che l'Inps riconoscerà è solo un importo una tantum, senza possibilità di consolidare in misura piena tale arretrato. In pratica, il cosiddetto effetto trascinamento è limitato a una piccola percentuale, via via decrescente in funzione della classe di importo dell'assegno pensionistico. L'adeguamento all'inflazione produce due effetti. Il primo è relativo all'aumento per l'anno di riferimento in funzione dell'indice calcolato dall'Istat e dell'importo dell'assegno, mentre il secondo stabilizza l'aumento, costituendo la base di calcolo per la rivalutazione dell'anno successivo. Gli adeguamenti sono pari al 40% dell'inflazione per gli assegni di importo, compresi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo. La percentuale scende al 20% per gli assegni di importo superiore a 4 volte, ma inferiore a 5 volte il minimo, e arriva al 10% per quelli di importo superiore, ma inferiore a 6 volte il trattamento minimo. Agli assegni di importo superiore non viene riconosciuto alcun adeguamento. Gli importi così determinati saranno consolidati nella misura del 20% per gli anni 2014-2015, mentre la percentuale salirà al 50% a decorrere dalla 2016. In sede di conversione è stato previsto altresì che tali importi, 20 e 50%, saranno rivalutati a decorrere dalla 2014 sulla base della normativa vigente. Tali percentuali saranno applicate a un indice inflattivo molto basso, pare all'1,1% per il 2014 e allo 0,20% per il 2015, valore definitivo.